Scala d'orica! Arrivo subito dopo l'intro! Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sossofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica, con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e contenuti esclusivi. Oggi parliamo di scala d'orica. La scala d'orica è una scala modale molto conosciuta in ambito jazzistico, tant'è che molti jazzisti quando pensano al minore pensano al modo d'orico. La scala d'orica ha una terza minore, una quinta giusta e una settima minore, proprio come le scale frigge ed eolie che sono minori anche loro, ma di queste scale ti parlerò in un'altra pillola. Ma la scala d'orica ha un sesto grado tutto speciale. Infatti si può dire che la scala d'orica è una scala minore che ha una sesta maggiore, detto anche b quadro 13, a differenza della scala minore eolie che invece ha bemolle 13. E tu mi chiederai, e come la ricavo in modo facile senza dovermi strappare i capelli? Molto semplice. La scala d'orica sappiamo che è una scala che deriva dalla scala madre che si trova un tono intero indietro. Quindi facendo l'esempio per esempio di do, do è il secondo grado di si bemolle, quindi è una scala di si bemolle che parte dal do. Le note di do d'orico sono do re mi bemolle fa sol la si bemolle do, perché mantiene le stesse alterazioni di si bemolle. Questa è una via, però c'è anche un'altra via. Posso pensare alla numerica della scala maggiore, normalissima, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e abbasso il terzo e il settimo grado. Facciamo l'esempio di do, do re 1 2 3 bemolle mi bemolle 4 5 6 sono fa sol la settimo bemolle sarebbe si bemolle do. Come vedi i procedimenti sono diversi però il risultato non cambia. In criterio di stabilità la scala dorica è una scala molto molto utilizzata come dicevo prima, tant'è che alcuni giottisti pensano direttamente al dorico quando pensano al minore, perché al suo interno il criterio di stabilità è che non contiene il famosissimo tritono, ma anche di questo ti parlerò in un'altra pillola. Modo di studiare le scale doriche è molto semplice, prendo una scala alla volta, facciamo l'esempio di do che è l'esempio più semplice e la esercito quindi penso do re mi bemolle fa sol la si bemolle do, prendo lo strumento, ovviamente vale per qualsiasi strumento, io sono il sax e di questo mi occupo, quando la so bene posso incominciare a metterla con un tempo di swig. posso incominciare a divertirmi un pochino sulla triade per esempio do mi bemolle sol o sulla quadriade do mi bemolle sol si bemolle e mettendo in funzione sia la triade che la quadriade sulla scala che ho esercitato prima in modo da creare delle piccole linee melodiche sempre con un tempo quando studi mi raccomando mi raccomando sii sempre creativo nel tuo studio non prendere una cosa e farla così 200 volte di fila perché da noi di un sacco inventa sempre qualcosa di nuovo crea la struttura matematica giusta impara le note ma dopo sii creativo in tutto quello che fai è molto molto importante spero davvero che questo contenuto possa esserti utile e che sia un modo semplice per imparare la scala dorica e sfruttarla all'interno delle tue improvvisazioni se questo contenuto ti è stato utile ricondividilo con i tuoi amici musicisti commentalo se hai domande dubbi o suggerimenti e io ti do appuntamento alla prossima pillola di armonia ciao ciao